Sì, allora oggi si spera che sia stata scritta la parola fine su questa vicenda del comune diviso di Marotta. Sì, lo speriamo come comune di Mondolfo. È andata davvero bene perché la sentenza della Corte Costituzionale ha accolto i ricorsi della Regione Marche e le richieste del comune di Mondolfo dichiarando inammissibili le proposte del Consiglio di Stato. Quindi penso che sia stata posta davvero la parola fine per la questione di Marotta Unita. Tra l'altro una questione molto sentita dai cittadini. La volontà popolare la sapete tutti perché i cittadini nel 2014 hanno votato per il 70% per unire Marotta ed è oggi una giornata davvero storica per il nostro comune. Qual è l'auspicio che si fa da amministratore in queste ore? L'auspicio è quello di continuare a lavorare per unire sempre di più Mondolfesi e Marottesi tutti insieme per far crescere e migliorare e sviluppare la nostra comunità. I Marottesi non ce l'avevano con il comune di Fano, volevano unirsi come era doveroso perché erano assurde alcune questioni, era assurdo avere una piazza divisa a metà e quindi credo che la sentenza della Corte Costituzionale sia una cosa molto positiva. Naturalmente noi continueremo a collaborare con il comune di Fano, speriamo che non vengano più sperperate risorse pubbliche, le risorse dei cittadini per ancora questioni legali. Poniamo la parola fine, guardiamo avanti e con un futuro sempre più positivo per tutta la nostra comunità.